Viaggio in treno per la Virtus che nel tardo pomeriggio di oggi ha raggiunto Padova alla vigilia del match dell'Euganeo, primo assaggio di una storica Serie B. La società ha deciso la strada ferrata per evitare i disagi del controesodo con le autostrade cariche di vacanzieri al ritorno. Subito una partita da brividi col Padova corazzata, decisa tutto pur di arrivare sino in fondo e ritrovare la Serie A. Rossoneri invece coi cerotti, privi di Amenta, Pepe, D'Aversa, causa squalifica e ancora Fofanà, Ottor e Bastola infortunati. Questa la probabile formazione, aridità tra i pali e poi difesa con Almici a destra, Aquilanti e Rosania centrali, Mammarella a sinistra, a centrocampo Minotti, Paghera, Odicecco e poi Volpe. In avanti Falcone a destra, Testardi riferimento offensivo, Turchi a sinistra. Parola al portiere, Vincenzo Aridità. Andiamo ad affrontare una squadra che comunque è una delle favorite di vincere il campionato, però è chiaro che la Serie B è così, ogni partita è una partita a sé, sappiamo che è un campionato difficile. E noi cercheremo di andare a affrontare ogni gara cercando di vincere, poi vediamo di portare più punti possibili a casa. Virtus chiama, Telemax risponde, domani sera a partire dalle ore 20 è prevista una lunga diretta da studio con collegamenti in diretta dall'Euganeo di Padova per il pre-partita e i commenti post-gara. Tre ore insomma, tutte dedicate al Lanciano e alla Serie B, prima sorpresa di una lunga serie. In diretta dunque domani dalle ore 20, pensate, 45 minuti prima del fischio d'inizio. Più di così... Più di così...